L'informazione di valore sul canale 18 Questa è Esperia TV Oltre 300 imputati, 58 pentiti e 5 testimoni di giustizia la prima udienza del maxiprocesso all'andrangheta del Vibonese nell'aura bunker di Lamezia In arrivo l'accreditamento per la struttura cardiologica catanzarese L'azienda sanitaria provinciale ha dato l'ok la gioia degli oltre 300 dipendenti In vista del prossimo DPCM atteso per il fine settimana cresce la preoccupazione dei ristoratori si profila una serata quasi totale la protesta a Catanzaro Buon pomeriggio dunque e benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Esperia TV siete sul canale 18 iniziato questa mattina lo dicevamo proprio nei titoli d'apertura alla mezzia terme il processo rinascita Scott contro le cosche del drangheta del Vibonese, dei prosunti referenti istituzionali, politici, economici e della massoneria deviata complessivamente sono imputate oltre 300 persone vediamo è un processo importante rispetto agli altri dal punto di vista personale dobbiamo avere maggiore attenzione maggiore concentrazione dato il numero degli imputati dato la dimensione di questo processo così il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri al suo arrivo nella nuova aula bunker alla mezzia terme dove stamani ha preso il via il maxiprocesso rinascita Scott che vede imputate oltre 300 persone contro le cosche di drangheta del Vibonese dei presunti referenti istituzionali, politici, economici della massoneria deviata questo processo tra le tante cose a capire lo stato dell'arte a capire l'evoluzione di una mafia che spara sempre meno e ha sempre più contatti con i quadri della pubblica amministrazione che trova sempre più facile penetrare in incetti sociali che decenni fa erano inimmaginabili 325 gli imputati a cui si aggiungeranno altre 4 persone già a processo con il giudizio immediato fra loro l'avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli mentre per altri 91 imputati si aprirà il rito abbreviato il 27 gennaio prossimo il processo si svolge alla presenza di inviati della stampa nazionale destra allestita anche una postazione covid con personale del 118 ingressi contingentati e separati per magistrati, giornalisti, avvocate e imputate a piede libero due i perimetri di sicurezza previsti intorno all'edificio uno al cancello d'ingresso e l'altro per accedere all'aula bunker fra i presenti il presidente della commissione antimafia Nicola Morra 5 testimoni di giustizia chiamate a deporre 58 pentite appartenenti all'andrangheta ma anche alla malavita pugliese e a cosa nostra siciliana io sono qui a rappresentare le istituzioni ho una giornata politicamente importante anche a livello di fibrillazione governativa come sappiamo tutti e ho fatto il mio per essere qua però ecco mi lasci dire che magari poteva esserci maggiore partecipazione da parte di tutti la Calabria deve ancora riflettere tanto ma soprattutto deve riflettere tanto il paese tutto, la nazione a livello romano perché c'è un'emergenza democratica che afferisce la Calabria sappiamo tutti che questo processo inizialmente si pensava si dovesse celebrare altrove poi per volontà di pochi ma ostinati uomini si è riuscita a ottenere che in questa struttura precedentemente inutilizzata si potesse svolgere appunto questo importantissimo processo secondo l'ultimo scusate arriveranno venerdì le ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza con le nuove classificazioni delle regioni per fasce di rischio secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio 8 sono a rischio moderato di cui 2 in progressione a rischio alto e una sola regione è a rischio basso sono oltre 8 milioni, scusate 800 mila gli italiani finora vaccinati contro il Covid secondo l'ultimo aggiornamento fornito questa mattina dal Commissario per l'Emergenza le fasce d'età destinataria del maggior numero di dosi resta quella tra i 50 e i 59 anni hanno ancora somministrato meno di metà delle dosi disponibili 5 regioni Liguria, Molise, Lombardia e Calabria oltre alla provincia autonoma di Bolzano è suddiviso invece in 4 fasi il piano vaccinale della regione Calabria lo ha varato il Commissario ad Acta per la Sanità Guido Longo ed è stato già inviato al Ministro Speranza è stato varato il piano vaccinale anti-Covid della regione Calabria dopo la firma del Commissario ad Acta per la Sanità il prefetto Guido Longo il documento è stato inviato al Ministro della Salute Roberto Speranza un piano che prevede 4 fasi nella prima riguardante la logistica è previsto lo smistamento delle dosi nei 4 ospedali AB, i 2 di Catanzaro, Cosenza e Reggio ed in quelli SPOC di Crotone e Vibo Valenzi successivamente con una fase già in corso sta proseguendo la somministrazione del vaccino all'intero personale sanitario, pubblico e privato di operatori e ospiti delle residenze sanitarie assistite ditte appaltanti in sanità, farmacisti, veterinari, informatori e persino volontari ma anche tutti gli ultraottantenni nella seconda fase del piano è prevista la vaccinazione di soggetti tra i 60 e i 79 anni, insegnanti e personale scolastico ed altri soggetti deboli nella terza il restante personale scolastico, ospiti e personale carcerario popolazione con comorbidità moderata la quarta e ultima fase completerà la somministrazione del vaccino a chi non rientrava nelle prime tre fasi i punti di vaccinazione ospedalieri e territoriali saranno 25 sparsi sull'intero territorio calabrese un'adesione al vaccino, che ha ribadito il commissario d'acta Guido Longo rimane libera e volontaria Buone notizie invece per il Sant'Anna Hospital di Catanzaro c'è il parere favorevole dell'azienda sanitaria provinciale per l'accreditamento Via Libera al rinnovo dell'accreditamento per la clinica Sant'Anna di Catanzaro purché adempia a sei prescrizioni La sesta riguarda l'attivazione dell'UTIC su cui sta indagando la Procura della Repubblica ma finalmente è arrivata una buona notizia la struttura d'eccellenza nelle cure delle patologie cardiovascolari che rischiava di chiudere ha avuto l'ok del commissario dell'Asp Il parere favorevole del prefetto Latella è stato già trasmesso all'ufficio del commissario alla Sanità e al Dipartimento Salute della Regione Con l'adempimento delle sei prescrizioni Villa Sant'Anna potrà riprendere le proprie attività sospese dal 28 dicembre scorso Da quanto si è appreso occorrerà mettere in atto le procedure per il percorso sporco pulito all'interno del blocco operatorio ottenere il certificato di agibilità della struttura riattivare proprio l'UTIC L'Asp di Catanzaro manterrà il parere favorevole a condizione che le verifiche degli organi tecnici siano positive Il parere dell'Asp è stato trasmesso a commissario e Dipartimento poiché il via libera definitivo è una competenza esclusiva della Regione Da Catanzaro invece ci spostiamo a Crotone sempre a proposito di sanità perché c'è un'ottima collaborazione tra pubblico e privato il Marrelli Hospital ha messo a disposizione dell'Asp Pitagorica un ultracongelatore Il Marrelli Hospital ha messo a disposizione gratuitamente un ultracongelatore per la conservazione dei vaccini all'ospedale di Crotone L'ultracongelatore servirà alla corretta conservazione dei vaccini contro il Covid-19 ma anche allo stoccaggio dei tamponi molecolari processati presso l'ospedale San Giovanni di Dio L'accordo è stato raggiunto nei giorni scorsi è il nostro modo di contribuire alla causa sottolinea la clinica crotonese perché siamo consapevoli che in un momento di bisogno come questo occorre remare tutti nella stessa direzione Ecco la lezione di Papa Francesco Questo è un gesto di grande solidarietà che vede pubblico e privato collaborare per il bene della comunità con la speranza di vincere la battaglia in corso Il frigorifero è stato già installato all'ospedale di Crotone la concessione dell'ultracongelatore capace di garantire il raggiungimento della temperatura di meno 80 gradi centigradi si è resa necessaria per efficientare i processi logistici afferenti alle vaccinazioni ed al ciclo di processazione dei tamponi molecolari In vista della nuova ondata l'aspe di Crotone non poteva permettersi di attendere a lungo per la consegna dell'attrezzatura Il gruppo, fondato da Massimo Marrelli ha voluto dare il suo contributo al territorio in un periodo particolarmente delicato e sicuramente non facile per la sanità italiana E prosegue a tambura battente a Castrovillari la vaccinazione contro il Covid-19 Anche a Castrovillari da qualche giorno è partita la vaccinazione anti-Covid dei primi ad essere vaccinati il personale sanitario dell'ospedale Dottor Cirone, come hanno risposto? Da prima un po' di sorpresa un po' di titubanza e poi si è dato quando le prime vaccinazioni sono partite immediatamente è nata nel personale la voglia di aderire immediatamente di vaccinarsi anche per liberarsi da questo incubo che combattiamo ormai da un anno intero quindi c'è una buona risposta una buona risposta possiamo dire anzi un'ottima risposta Nel reparto di ortopedia è stata allestita la sala per le vaccinazioni come avviene la convocazione? Gli operatori li convochiamo noi loro vengono e condivano il modulo per l'accettazione del consenso e poi vengono vaccinati il problema più grande della vaccinazione non è però l'accettazione degli operatori perché in genere lo vogliono fare nella stragrande maggioranza sono veramente pochi i casi che lo rifiutano e il conservare la catena del freddo perché il vaccino dopo essere scongelato deve essere utilizzato tutto quindi c'è bisogno di un'organizzazione dove i tempi si trovino per non perdere tempo prezioso o far scongelare le dosi Quanto tempo servirà per vaccinare gli operatori sanitari per poi passare alle altre categorie? I medici che vaccinano giù si occupano la mattina del personale ospedaliero mentre il pomeriggio viene vaccinato il personale dei servizi territoriali Vaccinarsi è importante ha sottolineato l'assessore regionale Gianluca Gallo Quando verrà il mio turno io mi vaccinerò sicuramente perché credo che sia un fatto di civiltà e di rispetto anche per gli altri in questo senso noi altri componenti dell'aggiunta abbiamo insieme al vicepresidente Spirli incontrato il commissario Longo al commissario Longo abbiamo chiesto di estendere il piano vaccinale ad altre figure originalmente non ricompresi ad altri settori Proseguono i servizi della compagnia Carabinieri di Scalea sul fronte del contrasto allo spaccio e dal consumo di droga nel territorio dell'Alto Tirreno Cosentino A Scalea i militari della sezione radiomobili hanno tratti in arresto due giovani entrambe 27 anni per detenzioni e fini di spaccio di sostanza stupefacente i due nel corso di una perquisizione sono stati trovati in possesso di 150 grammi di cocaina dopo l'udienza di convalida è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari Sono preoccupati i ristoratori che con il prossimo DPCM che è atteso nei prossimi giorni saranno ancora più penalizzati vediamo La nuova stretta in via di definizione da parte del governo che prevede anche l'abolizione del servizio di asporto dopo le 18 trova una netta opposizione dei ristoratori stremati da mesi di restrizioni chiusure forzate l'iniziativa di protesta più forte propone la riapertura dei locali per cena dopo il 15 gennaio in netta violazione dei decreti governativi una forma di disobbedienza civile che punta a rimarcare la volontà di riprendere a lavorare nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-covid Noi abbiamo deciso di aderire perché non crediamo che chiudendo i locali si possa risolvere il nulla l'esempio più banale che abbiamo è che proprio durante le feste natalizie insomma il picco dei contagi è aumentato ma lì da attribuire ai locali c'era ben poco visto che sono chiusi ormai da tempo in memore io credo che bisogna rispettare questa malattia bisogna imparare a gestirla così come ci avevano detto nei lontanissimi ormai mesi di marzo e aprile stare all'interno del locale paradossalmente è una tra le cose più sicure uno per tutti gli investimenti tra rilevatori di temperature gel sanificazioni annullamento di tavoli distanziamento delle sedie controllare un locale è molto più semplice che andare a verificare effettivamente quello che succede al di fuori del locale stesso l'idea di sfidare le nuove regole non ha fatto breccia tra molti ristoratori che pur condividendo in pieno i motivi della protesta ritengono che l'apertura fuori dagli orari consentiti esponga ai clienti il rischio di salate e sanzioni amministrative devono farci tornare a lavorare i bonus e i ristori che hanno mandato fino ad oggi non riescono a coprire le perdite cioè il bonus che è arrivato in questi giorni copre il 10 il 20% delle perdite che abbiamo avuto ma quando parliamo di perdite non parliamo perdite la mancanza dei guadagni perdite dei costi che abbiamo dovuto sostenere in questo anno del virus perché comunque gli affitti li abbiamo continuato a pagare sia avremo un credito d'imposta dell'affitto ma quando lo andiamo a scontare questo credito d'imposta cioè siamo veramente ridotti siamo con le spalle al muro abbiamo bisogno di lavorare lo Stato ci deve mettere in condizione di lavorare in sicurezza ingressi ridotti mascherine quel che si voglia per combattere questo virus però continuare a rimanere chiusi o addirittura vietare anche l'asporto vietare anche i servizi minimi il servizio a pranzo veramente secondo noi non si potrà durare più di qualche altro giorno Un piano complessivo di interventi sulle strade interpoderali rurali a uso pubblico e sui fossi di scolo delle acque meteoriche del comprensorio consortile è il programma che sta portando avanti il consorzio di bonifica Ionio Catanzarese L'ultimo intervento nel comune di Soveria Simeri sono interventi continui e costanti che effettuiamo commenta il presidente del consorzio Fabio Borrello che servono innanzitutto a migliorare la viabilità rurale lo scolo delle acque e a prevenire le situazioni di pericolo preparando il territorio a rispondere in modo positivo alle piogge questo tipo di interventi permettono anche agli agricoltori di recarsi in sicurezza nei propri fondi agricoli per la raccolta dei prodotti la menzione ci ripaga del lavoro svolto e segue quello che è l'orientamento di questa amministrazione comunale che ha posto al primo piano le politiche ambientali e di sviluppo sostenibile lo afferma la consigliera Anna Maria Buono che ha proposto e coordinato la candidatura del comune di Castro Libero al Cresco Award il comune ha ottenuto una menzione d'onore per il progetto festival dell'ambiente svolto con il patrocinio dell'Unical e del dipartimento di fisica dell'Arpacal l'iniziativa nasce con l'intento di coinvolgere la cittadinanza di inviare azioni a basso impatto ambientale nella vita di tutti i giorni sensibilizzare e formare gli studenti ad essere cittadini attivi nella lotta ai cambiamenti climatici sono centinaia le famiglie in difficoltà che stanno ritirando i pacchi alimentari a Catanzano nell'ambito di un'iniziativa curata da Emergency vediamo Lavoratori aggiornata badanti collaboratori di attività messe in crisi dall'emergenza Covid sono loro i principali destinatari del progetto nessuno escluso di Emergency persone e famiglie che non avevano mai dovuto chiedere aiuto a nessuno e che oggi invece sono in forte difficoltà come ha spiegato Marco Latrecchina responsabile nazionale del progetto che punta a dare risposta ai nuovi bisogni fatti emergere dalla pandemia e che i volontari di Emergency si stanno realizzando anche a Catanzaro dove presso il centro polivalente di via Fontana Vecchia hanno già distribuito 260 pacchi alimentari alle prime 130 famiglie nessuno escluso nasce non solo qui a Catanzaro ma in tutta Italia per dare una mano a tutte quelle persone che purtroppo sono rimaste fuori dagli aiuti istituzionali in questo periodo di pandemia che spesso ha portato via tante cose oltre purtroppo alla salute anche per esempio il lavoro di tante persone e sono persone che fino a poco tempo fa non avevano bisogno di aiuti non rientravano in categorie a rischio riuscivano tutti i mesi a mettere ogni giorno un piatto a tavola all'improvviso si sono ritrovate tantissime categorie ad essere escluse sia dal mondo del lavoro ma avendo un reddito fino a poco prima anche escluse dal mondo degli aiuti e quindi nasce per questo nessun escluso per arrivare a tutte quelle persone che in questo momento non sapevano come veramente letteralmente mettere un piatto a tavola ogni famiglia sostenuta da nessuno escluso riceve ogni settimana un pacco alimentare al quale si aggiungono ogni mese un pacco di prodotti alimentari a più lunga conservazione e un pacco di prodotti per la pulizia della casa e per l'igiene personale la seconda settimana quando abbiamo iniziato a chiamare per il secondo ritiro alcune persone ci hanno risposto ma io l'ho già preso la settimana scorsa questa cosa un pochino ci ha fatto sorridere perché appunto davvero non si aspettavano che fosse un progetto che li avrebbe accompagnati finché speriamo questa pandemia non finisca e loro non possano ritornare alla loro vita di prima alla loro normalità Emergency che già collabora con associazioni del territorio punta ora a coinvolgere imprese calabresi stiamo cercando fornitori calabresi che riempiano queste scatole e che poi andranno a questi beneficiari proprio perché non vogliamo fermarci al semplice aiuto della consegna del pacco ma se possiamo aiutare anche i produttori e i fornitori calabresi questa cosa ci riempie davvero di gioia l'istituto comprensivo Vittorio Alfieri di Crotone oggi è rimasto chiuso per permettere la sanificazione a seguito del contagio riscontrato in un anullo lo rende noto la dirigente scolastica Franca Gisella Parise la decisione è stata presa a seguito della riscontrata positività di un anunno che dopo il tampone rapido sarà solo sottoposto al tampone molecolare ed è tutto per questa edizione restate sul canale 18 tra pochissimo la trasmissione doc denominazione di origine controllata curata dal nostro direttore Salvatore Audia il Tg tornerà questa sera alle 20.30 e buon proseguimento dunque con noi di Esperia TV arrivederci